Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona.